La curva della pandemia da Covid-19 in Friuli, Venezia e Giulia fa registrare una riduzione di tutti gli indicatori. C'è una continuità con l'andamento della scorsa settimana e speriamo che tutto resti confermato anche nei prossimi giorni. Ad annunciarlo il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, che allo stesso tempo invita i cittadini della regione a continuare a usare tutte le precauzioni previste nei vari protocolli con la stessa responsabilità dimostrata nella fase 1 dell'emergenza. A confermare il trend positivo, oltre alle parole, ci sono i numeri. Basti pensare che nell'area udinese i decessi sono fermi a 73 casi da ormai oltre 10 giorni e che oggi in tutta la regione non si registrano nuove vittime da Covid-19. Complessivamente, le persone positive al coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia sono attualmente 436, 26 meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente, mentre quelli ospitati in altri reparti risultano essere 62. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.240, 4 in più rispetto a ieri. I totalmente guariti, invece, ammontano a 2.475, i clinicamente guariti a 50 e le persone in isolamento domiciliare sono 323. Complessivamente i deceduti sono 329, di cui 184 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5. Direi che anche oggi i dati sono buoni, le curve sono coerenti con quello che è accaduto nei giorni precedenti e quindi salutiamo anche questo dato con soddisfazione, vedendo coerente la curva rispetto alla riduzione di tutti gli indicatori. Adesso naturalmente procederemo, comunque stiamo procedendo con tutta l'attività dei tamponi, e naturalmente verificheremo ad alcuni giorni se questo andamento verrà confermato come tutti ospichiamo, naturalmente chiedendo alle persone di usare tutte le precauzioni e lo stesso comportamento responsabile che c'è stato nel corso di questi mesi.